Anche stavolta la solidarietà ha fatto centro. Per sostenere la ricerca e le famiglie delle persone affette da atrofia muscolare spinale, durante lo spettacolo teatrale di Scena all'Auditorium di Sernia sono stati raccolti 2.500 euro. Un piccolo aiuto che in realtà significa tantissimo per chi da solo ogni tanto lotta contro una malattia per la quale ancora non c'è una cura. Grazie anche a questi sforzi, la ricerca ha fatto comunque dei notevoli passi in avanti e oggi c'è una speranza in più. In attesa di battere definitivamente la SMA, un farmaco in fase di sperimentazione sta dando i primi incoraggianti risultati. Siamo un buon punto. Si spera che nei primi mesi del 2017 finalmente esca questo farmaco che comunque è in fase finale di sperimentazione. I bambini reclutati in Italia finiscono la loro sperimentazione a novembre e quindi poi il tempo di richiedere tutte le varie autorizzazioni per i primi mesi del 2017 dovremmo farcela. Questo è un farmaco che purtroppo non è la cura però comunque è un farmaco che consente il blocco della malattia, nel senso che la malattia purtroppo è una malattia che piano piano si perdono delle capacità motorie a livello muscolare e questo farmaco sembrerebbe che blocchi proprio questa regressione. Buona dunque la risposta degli Sernini a questo appello alla solidarietà, merito anche dei protagonisti della serata. Dopo l'esibizione della piccola Giada che nonostante la malattia non ha rinunciato al suo sogno di ballare, spazio allo spettacolo teatrale dal titolo Non è successo niente, ho solo steso l'amore all'ombra. Scritto e diretto da Sergio Marchetta con musiche di Giovanni Moffa parla d'amore in chiave ironica. Il significato profondamente è questo, dare all'amore la giusta dimensione e cioè proteggerlo più che difenderlo. Tutto ciò che non è all'interno dell'amore inteso come casa, come rapporto non necessariamente può essere cattivo, non necessariamente può far male. C'è molto di ironico. In fondo uno dei modi con il quale proteggere un amore è proprio l'ironia. Un rapporto che da giovani può funzionare molto, col passare degli anni possiamo immaginare che tra virgolette degeneri dal punto di vista dell'intesa. E allora cosa di meglio dell'ironia per renderlo sorridente giorno per giorno?